Venafro, stamane un bambino di otto anni è precipitato dal balcone al secondo piano di uno stabile in via Collegio dei Fabri. Poteva essere una tragedia. Erano da poco trascorse le otto, quando due passanti, padre e figlio, hanno notato un bambino su quel balcone. Stava mangiando qualcosa e intanto armeggiava con un monopattino. Ad un certo punto delle grida dall'interno dell'abitazione e, qualche istante dopo, vedono un uomo entrare precipitosamente nel giardino sottostante. A terra c'è il bambino. Si lamenta, è cosciente. Intanto l'ambulanza del 118 è già partita dal Santissimo Rosario, che in linea d'aria dista meno di un chilometro. Sul posto il lavoro dei soccorritori, al crocchio di curiosi che intanto si era formato, non è apparso frenetico. Un primo segnale questo del fatto che le condizioni del bambino non fossero, almeno all'apparenza, drammatiche. Come è stato possibile, visto che il ragazzino è precipitato da 5 metri? Quando siamo andati sul luogo abbiamo visto che proprio sotto il balcone c'è un grande albero di arancio, con dei rami fitti fitti, poco sopra, al primo piano, delle corde tese per il bucato. Queste, e soprattutto l'albero, potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nell'attutire la caduta. Il bambino sarebbe caduto in piedi. È sotto osservazione al pronto soccorso del veneziale di Sernia. Negativa all'attack, nessuna lesione agli organi interni, ma una piccola lesione ossea da monitorare. E quanto emergerebbe dal quadro clinico? Se fosse confermato, beh oggi a Venafro, invece di una possibile tragedia, sarebbe accaduto qualcosa di incredibile.